Avrebbe abusato in un parco della zona nord di Pescara di una bambina di 10 anni che gli era stata affidata da alcuni parenti prima di essere messo in fuga da una donna che aveva assistito all'accaduto. All'inizio hanno assistito ad una scena talmente incredibile che non credevano ai loro occhi. Quando hanno poi realizzato che effettivamente quello che stavano vedendo era quello che stava accadendo, in particolare una signora, una madre, ha avuto il coraggio di affrontare questa persona che stava mettendo pubblicamente le mani addosso ad una bambina di solo 10 anni intervenuta gridando e minacciandolo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Solo così la condotta è stata interrotta. Ai domiciliari è così finito un 51enne incensurato pescarese che deve rispondere del reato di violenza sessuale aggravata. Per la vittima è risultato importante oltre che il supporto dei consulenti anche quello di due donne poliziotto che hanno ascoltato il suo racconto. Devo dire che all'inizio non è stato facile perché la bambina proprio per la tipologia di reato non riusciva a capire di essere una vittima ma pensava di essere colpevole. Infatti quando la situazione è stata interrotta al parco la bambina è corsa via piangendo gridando non ho fatto niente, non ho fatto niente. Poi dopo che abbiamo avuto il primo incontro ha avuto consapevolezza di quello di cui appunto era stata vittima. Nel secondo incontro, subito dopo il primo incontro ha manifestato la volontà poi di ritornare perché doveva confidarci questo segreto e lo poteva confessare solo a noi e quindi nel secondo incontro finalmente riuscita ad aprirsi. Volevo sottolineare che la bambina poi al termine dell'audizione ha sottolineato più volte il fatto che si era finalmente liberata da un grosso peso sulle spalle. È stato anche emozionante voglio dire per noi essere riuscite ad ottenere questo risultato.